Nel III secolo a.C., nella città di Siracusa, imperava il tiranno Gerone. Oltre a essere un tiranno, era comunque un monarca molto saggio, che si rivolgeva spesso ad Archimede, matematico e fisico, che trovava spesso ingegnose risposte alle domande di Gerone. La vicenda che narriamo adesso ha in realtà il sapore della leggenda. Narrano le cronache che Gerone, avendo a disposizione un lingotto d'oro, si fosse rivolto ad un orefice perché questo gli realizzasse una corona d'oro. Una volta ultimato il lavoro, anche se la massa della corona era uguale alla massa iniziale dell'ingotto d'oro, il tiranno Gerone cominciò ad avere il sospetto che in realtà quella corona non fosse stata realizzata interamente in oro. Ma come sarebbe stato possibile stabilire se davvero quella corona era interamente d'oro senza rovinare il lavoro fatto dall'orefice? Si rivolse così ad Archimede e Archimede cominciò a cercare di elaborare questo problema, di trovare una soluzione. In questa stampa del XVI secolo vediamo Archimede che si immerge nella vasca da bagno e, a terra, come dimostrazione di questo pensiero sempre latente per risolvere il problema di Gerone, la corona fornita gli da Gerone. La leggenda narra che una volta trovato la risposta al problema di Gerone, Archimede si sia lanciato per le vie di Siracusa per l'entusiasmo, ancora nudo, quindi nel mezzo del bagno, urlando Eureka, cioè ho trovato. Che cosa aveva trovato Archimede? Si era reso conto che avrebbe potuto immergere in una tinozza un lingotto d'oro della stessa massa della corona e poi la corona. Se i due oggetti avessero modificato il livello dell'acqua della stessa quantità, della stessa altezza, allora avrebbe avuto la conferma che la corona era fatta interamente d'oro, tutto l'oro che Gerone aveva dato all'orefice. Se invece le due altezze fossero state diverse, questo sarebbe stata la dimostrazione che al posto dell'oro era stata usata una parte di un altro metallo meno nobile e meno prezioso per realizzare la corona. Non si sa di preciso quale sia stato il risultato di questo esperimento di Archimede e non si sa neppure che fine abbia fatto l'orefice. Quello che è certo è che per quanto questa leggenda venga associata alla forza di Archimede che oggi andremo a trattare, Archimede non arrivò direttamente a formulare la sua legge proprio nel momento in cui correva per la città urlando Eureka. L'Università del Colorado ci offre l'opportunità di fare una simulazione di quello che era successo ad Archimede. Sappiamo tutti benissimo che se prendiamo questo blocco di legno e lo mettiamo in acqua, questo galleggerà. Se invece mettiamo in acqua questo blocco di mattoni, questo arriverà sul fondo. Supponiamo quindi di utilizzare il nostro blocco di legno. La prima cosa che possiamo notare è che aumenta il livello dell'acqua perché in effetti una parte del blocco di legno è immersa nell'acqua. Se al posto dell'acqua usassimo l'olio che ha di fatto una densità inferiore a quella dell'acqua, ci accorgeremmo subito che questa altezza aumenta di più, non molto ma un po' di più. E questo per il fatto che la parte di legno immersa nel liquido è aumentata. Ma non è aumentata, lo possiamo vedere, quella che è la forza di Archimede. In effetti il nostro blocco di legno galleggia e se confrontiamo questa forza di Archimede con la gravità, cioè con il peso del blocco di legno, ci accorgiamo che le due forze sono esattamente uguali. Che io immerga il blocco di legno nell'olio oppure che lo immerga nell'acqua. Il risultato è esattamente lo stesso. Passiamo quindi alla fase successiva dell'esperimento. Abbiamo sempre a disposizione un blocco di legno, possiamo far variare la sua massa o il suo volume e possiamo a questo punto variare il liquido nel quale immergeremo questo blocco di legno. E possiamo notare che di fatto ad ogni liquido che noi possiamo utilizzare per realizzare l'esperimento è associata la sua densità. Per default viene dato come primo liquido l'acqua. Nel momento in cui noi immergiamo il nostro blocco di legno, vediamo che questa altezza si è leggermente spostata perché una parte del blocco di legno è immersa in acqua. Adesso la domanda potrebbe essere ma se noi aumentiamo la densità del liquido, ad esempio ci spostiamo verso il miele, questa altezza aumenterà o diminuirà? Ovvero, siccome l'altezza è direttamente collegata al volume del solido che è immerso in acqua, il nostro blocco di legno si alzerà rispetto all'acqua e quindi il volume della parte immersa sarà minore oppure si abbasserà nell'acqua e quindi il volume della parte immersa sarà maggiore? L'abbiamo visto salire a vista d'occhio. Ora possiamo effettivamente notare che è cambiato il livello, ovvero si è abbassato perché la quantità di volume immerso è diminuito. Non sarebbe cambiato nulla invece se noi andiamo a considerare la sua galleggiabilità o il suo peso. Di fatto che si è immerso nel miele o che si è immerso nell'acqua, questi due valori restano esattamente uguali. In altre parole, la nostra forza di Archimede, perché l'oggetto in questione possa galleggiare, deve equiparare la forza peso dell'oggetto stesso e è vero che noi a questo punto avremo un diverso volume, cioè in altre parole, la nostra forza di Archimede ci dice che la forza che viene esercitata, questa rosa, questa forza di Archimede, è dipendente dalla densità del liquido spostato ma anche al volume di liquido spostato. Quindi è vero che in questo caso io diminuisco il volume di liquido spostato ed è vero che aumento la densità, ma di fatto all'aumentare di uno, l'altro è diminuito con la legge dell'inversa proporzionalità e quindi la nostra forza di Archimede è rimasta uguale. Stessa cosa se io passo all'olio d'oliva che ha una densità minore rispetto all'acqua quindi vediamo che il nostro blocco di legno si immerge ancora di più nell'olio ma a parte quello, la forza di Archimede assumerà sempre lo stesso valore. E se abbassiamo ulteriormente la densità e otteniamo quindi la benzina, di fatto qua abbiamo una densità e possiamo cominciare a fare un discorso di quantità, abbiamo la benzina che ha una densità di 0,70 ma il legno ha una densità di 0,40 e quindi ha una densità inferiore a quella della benzina e questo è il motivo per cui riesce a galleggiare. Se invece ci spostiamo via via verso l'aria, ricordo che l'aria ha una densità bassissima, possiamo vedere che la nostra forza di Archimede mantiene sempre lo stesso valore, ma di fatto la parte di volume immerso sta aumentando notevolmente. Fino che arriviamo al punto che questa forza di Archimede che si genera non è più sufficiente a controbilanciare la nostra forza peso e per questo motivo quindi il solido va sul fondo. Se noi invece aumentassimo un po' la massa del solido vediamo fino a che punto otteniamo un cambiamento. La nostra forza di Archimede continua a essere inferiore rispetto alla forza peso e quindi non c'è possibilità di riportarlo a galla. Perché di fatto non è una questione di massa, non è una questione semplicemente di volume, ma è una questione di confronto delle densità. Se ci spostiamo leggermente verso l'alto aumentando leggermente la densità vediamo che effettivamente riesce a galleggiare, ma se confrontiamo ci accorgiamo che la densità è ancora superiore a quella del legno, la densità del liquido. Se otteniamo una densità uguale a quella del legno, di fatto resta completamente immerso, le due forze si equivalgono, grosso modo, e di fatto però il nostro blocco di legno resta completamente immerso. Va da sé che se al posto della benzina, di questo fluido, dalla densità di 0,40 lo mettessimo nell'aria, sappiamo benissimo che il nostro blocco di legno arriverebbe a terra. Al posto di considerare il legno adesso, consideriamo due blocchi e uno lo consideriamo di polistirolo. Vediamo subito che la densità del polistirolo è inferiore rispetto a quella del legno, tant'è che nonostante la massa del polistirolo sia inferiore a quella del legno, il volume è maggiore. Lo possiamo notare in questi valori riportati qua. Sappiamo benissimo che mettendo questi oggetti nell'acqua, questi galleggeranno. Il nostro blocco di legno è riuscito ad innalzare il livello di 2 e il nostro blocco invece di polistirolo alza in realtà il livello della metà all'incirca. Questo livello che noi andiamo a misurare è espresso in litri, quindi è associato appunto al livello, ma di fatto ci dà come risultato un volume. Le cose cambiano se a questo punto consideriamo il miele. In questo caso potremmo addirittura aumentare talmente tanto la densità del nostro fluido fino ad arrivare al punto in cui una pochissima parte di questo polistirolo potrebbe essere immerso. Anche nel caso della benzina il nostro polistirolo continua a galleggiare e anche se ci abbassiamo fino ad una densità di 0,40, la stessa densità che sappiamo non è sufficiente per tenere a galla il nostro blocco di legno. Se scendiamo sempre di più con la densità ma mantenendoci comunque al di sopra della densità del nostro blocco di polistirolo vediamo che questo continua a immergersi sempre di più ma riesce comunque a tenersi a galla e lo possiamo vedere dalle varie forze che agiscono sui due oggetti. Potrebbe essere interessante a questo punto vedere come si comporta il ghiaccio. Si dice che il volume che emerge dell'iceberg sia in realtà una piccola parte rispetto al volume totale dell'iceberg. All'incirca abbiamo un 10% dell'iceberg che emerge e questo è dato appunto dalla densità del nostro ghiaccio che è molto vicino alla densità dell'acqua e in effetti in questo caso vediamo che col miele ovviamente diminuisce la parte immersa ma arrivando all'olio d'oliva possiamo cogliere che ci troviamo in una situazione di equilibrio perché le due densità sono uguali ma di fatto il nostro iceberg è completamente immerso. Ovviamente nel momento in cui lo immergiamo nella benzina non c'è possibilità per lui di stare a galla. Quindi se noi abbiamo il nostro liquido e all'interno di questo liquido mettiamo quindi un solido ad esempio appunto il caso del nostro legno ma potrebbe essere un liquido qualsiasi con un oggetto di densità qualsiasi di fatto ciò che ci interessa è la parte immersa nel nostro liquido questa è la parte immersa e il resto invece è ciò che emerge fuori dall'acqua quindi qua di fatto abbiamo tutto il nostro liquido che copre il nostro oggetto come abbiamo visto nelle simulazioni precedenti la forza di Archimede agisce dal basso verso l'alto e l'abbiamo associata alla densità del nostro fluido e al volume del corpo immerso quindi di fatto la nostra forza di Archimede è in realtà pari al peso del fluido spostato quindi in questo caso abbiamo la nostra massa d'acqua moltiplicata per l'accelerazione di gravità ma noi sappiamo che la nostra massa d'acqua la possiamo scrivere anche in modo diverso se consideriamo la densità dell'acqua questa è data dal rapporto fra la massa dell'acqua e il suo volume quindi al posto della massa dell'acqua possiamo mettere la densità dell'acqua o di qualsiasi altro fluido noi stiamo considerando e il volume in questo caso del corpo immerso cioè solamente il volume della parte immersa non il volume totale del nostro oggetto caso diverso invece è la situazione in cui noi consideriamo il peso dell'oggetto sappiamo che questo agisce dall'alto verso il basso e che in questo caso il suo peso è dato dalla massa per l'accelerazione di gravità e la massa la possiamo vedere per il ragionamento fatto prima come la densità dell'oggetto per il volume totale dell'oggetto per l'accelerazione di gravità nel momento in cui il nostro oggetto è completamente immerso ma resta comunque in equilibrio sappiamo che la forza di Archimede sarà uguale quindi alla forza peso la forza di Archimede in quel caso sarà data dalla densità dell'acqua per la totalità del volume dell'oggetto per l'accelerazione di gravità mentre il peso dell'oggetto come abbiamo visto è dato dalla densità per il volume per l'accelerazione di gravità semplificando quindi le grandezze uguali otteniamo che questo può avvenire quando la densità del liquido è uguale alla densità del materiale da cui è composto l'oggetto che è quello che abbiamo visto nella nostra simulazione perché quindi sia possibile che il nostro oggetto immerso nel liquido resti a galla e quindi solamente una parte di lui resti sommersa dal fluido dovremo avere che la nostra forza di Archimede dovrà essere tale da coinvolgere solamente una parte del nostro volume totale e quindi di fatto questo rapporto fra il volume immerso e il volume totale dovrà essere inferiore a 1 consideriamo adesso questo semplice esempio il dirigibile Hindenburg fabbricato in Germania nel 1936 è stato uno degli aeromobili più grandi mai costruiti il nostro dirigibile ha un volume di 211.890 m3 ed una massa di 118.000 kg ed era riempito di idrogeno che ha la densità di 9,0 per 10 alla meno 2 kg al metro cubo la densità dell'aria invece che ci interesserà è 1,29 kg al metro cubo possiamo quindi cominciare a renderci conto che di fatto sempre di spinta da Archimede parliamo anche se siamo nella situazione in cui il nostro oggetto non è immerso in un liquido ma in un fluido come l'aria e quindi in questo caso riesce a galleggiare nell'aria ci domanda qual è la spinta ascensionale che faceva volare l'Hindenburg quindi in questo caso il nostro dirigibile si comporta come il blocco di legno che abbiamo considerato prima su di esso agirà quindi una forza di Archimede dal basso verso l'alto ed una forza peso invece che va dall'alto verso il basso quindi sarà possibile che questo riceva una spinta ascensionale nel momento in cui la nostra forza di Archimede superi come modulo la forza peso e quindi la nostra forza ascensionale non sarà data altro che dalla differenza tra la forza di Archimede e la forza peso vado quindi a sostituire al posto della forza di Archimede la densità dell'aria moltiplicata per il volume perché l'intero dirigibile è immerso nell'aria per l'accelerazione di gravità e per quanto riguarda il peso invece considero la massa del dirigibile moltiplicata per la sua accelerazione di gravità e il risultato è di 1,5 per 10 alla sesta Newton la domanda successiva ci pone un ulteriore problema il dirigibile avrebbe potuto trasportare un carico di 100 tonnellate quindi con una nuova massa M' di 100 per 10 alla terza kg avrebbe potuto comunque continuare a volare? beh, questo è possibile solamente se la forza di Archimede a cui devo sottrarre questa nuova forza peso mi dà un risultato maggiore di 0 se si verifica questa situazione allora di fatto il mio dirigibile può trasportare le 100 tonnellate quindi otteniamo sempre lo stesso valore per quanto riguarda la nostra forza di Archimede e per quanto riguarda il peso devo sommare le due masse e moltiplicarle per l'accelerazione di gravità il risultato che ottengo è pari a 5,4 per 10 alla quinta Newton quindi la nostra forza ascensionale è stata ridotta ma di fatto resta comunque sempre maggiore di 0 e quindi il dirigibile può trasportare il carico questo secondo esempio invece si riferisce al galleggiamento così come lo conosciamo un pescatore vuole fabbricare una piccola zattera per poter pescare in un lago per pescare in sicurezza ha bisogno che la superficie della zattera senza carico emerga di almeno 10 cm dal pelo dell'acqua ha a disposizione un ugual numero di travi di legno e di un composto plastico quindi cominciamo a segnare la densità del legno che è 550 kg al metro cubo e la densità invece del plastico che è di 820 kg al metro cubo possiamo già notare che da queste densità possiamo dedurre facilmente che il legno galleggerà meglio rispetto al nostro materiale plastico ovvero di fatto succederà che il volume del blocco di legno che emergerà dall'acqua sarà maggiore rispetto a quello del blocco plastico in percentuale che è proprio quello che ci chiede cioè la percentuale del volume della zattera che emerge in superficie in entrambi i casi quindi sia nel caso del legno che nel caso del composto plastico in realtà sappiamo che entrambi gli oggetti riescono comunque a galleggiare visto che la loro densità è inferiore rispetto a quella dell'acqua possiamo quindi dire che la forza di Archimede che agirà in entrambi i casi sarà uguale al peso dell'oggetto la forza di Archimede sarà data quindi dalla densità dell'acqua per il volume immerso per l'accelerazione di gravità mentre la forza peso sarà data dalla densità del legno in questo caso per il volume del totale per l'accelerazione di gravità da questo possiamo ricavare il rapporto fra il volume immerso e il volume totale che è dato di fatto dal rapporto fra le due densità è vero che in questo caso otterremo la percentuale del volume immerso rispetto al volume totale ma il nostro volume totale sarà appunto diviso in due parti una parte è il volume immerso e l'altra è il volume emerso quindi la percentuale che otteniamo dal volume immerso la sottraiamo da 100 e otteniamo quella del volume emerso procediamo quindi a fare questo calcolo nel caso del legno avremo quindi il rapporto fra la densità del legno e la densità dell'acqua che ci dà come risultato il 55% e quindi il rapporto fra il volume emerso e il volume totale per il legno ci darà il 45% per quanto riguarda il composto plastico questo rapporto ci dà come risultato essendo il rapporto fra la densità del composto plastico e la densità dell'acqua ci dà come risultato l'82% e quindi facendo la differenza il rapporto fra il volume emerso e quello totale nel composto plastico è del 18% da questi risultati che abbiamo appena ottenuto a questo punto possiamo verificare se ce n'è uno che riesce ad emergere per almeno 10 cm dal pelo dell'acqua ci dice che questo materiale è composto da travi di sezione quadrata di lato 25 cm in questo caso sappiamo che visto che il volume emerso è direttamente proporzionale all'altezza emergente allora la stessa proporzione che esiste fra il volume emerso e il volume totale esisterà anche fra l'altezza emergente e l'altezza totale dove l'altezza totale sono i 25 cm della lunghezza del lato di queste travi di legno quindi in altre parole la nostra altezza la otterremo come altezza totale per il rapporto fra V e e V che è quello che abbiamo appena trovato e quindi nel caso del legno il 45% della mia altezza totale cioè 11,25 cm e nel caso invece del composto plastico questo sarà dato dal 18% dell'altezza totale e quindi emergeranno solamente 4,5 cm quale materiale devo scegliere per pescare in sicurezza? sicuramente il legno è un po' Grazie a tutti.